ciao a tutti e bentornati qui cesanna con la mia prima tisana dell'anno forse l'autunno sta veramente arrivando e l'aggiornamento sui miei progressi project pen gioie e dolori soddisfazioni prodotti finiti prodotti col buco ci sarà tanto di cui chiacchierare detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo partiamo dal primo prodotto terminato che è un profumo che io avevo inserito all'interno del pack dello spray fissante di fenty beauty eravamo qui sono finalmente riuscita a terminarlo la storia è lunga se vi faccio tutta la mia playlist project pen sul canale vi si era rotta la boccetta di profumo sono riuscita a salvarne un bel po e lo avevo inserito qui terminato era una limited edition estiva di un profumo di Yves Rocher non male perché così potrò riciclare questo barattolino vuoto di fenty per l'hydro hyaluronic face mist di catrice che trovate recensita qui sul canale che adoro ma che è una mist troppo intensa e che quindi non vedevo l'ora di travasare in questo contenitore che ha una mist molto più micronizzata con cosa andrò a sostituirlo rimaniamo sui profumi ed ho scelto il profumo della chicco della collezione green me mediterranean notes come vedete ce n'è parecchio perché ho scelto lui è un profumo delicato che mi piace voi lo sapete io soffro di omicrania quindi preferisco le profumazioni fresche aggrumate con quel tocco di verde la foglia di tè il tè verde e questo profumo è sicuramente nelle mie corde però non è il profumo di una grande casa profumiera è uscito da un po è aperto da un po se avete visto il mio haul acquisti estivi dove vi racconto degli acquisti durante le mie vacanze saprete che di nuovi profumi ne ho acquistati tanti e quindi è tempo di fare un pochino di spazio onde evitare anche di dimenticarselo troppo che poi questo profumo vada a perdere quella che è la sua fragranza caratteristica e quindi ho deciso di inserirlo nel project pen non sapete quanto mi aiuti questo davvero a terminare a fare i progressi sui prodotti prossimi terminati a due a due come vi ho detto per i prodotti monouso qui sul mio canale due valgono uno questi erano due patch occhi di gli auti non so come si pronunci li avevo trovati da dm per me dei grandi bocciati sono molto molto spessi come patch quindi non aderiscono molto bene al viso e sono all'interno di un liquido talmente liquido non è un gel non è un siero è proprio un acqua che quando solleviamo il patch per applicarlo di liquido ne rimane davvero davvero pochissimo è chiaro che possiamo prendercelo spalmarcelo io non lo facevo perché obiettivamente il liquido di questi patch mi faceva un pochino lacrimare gli occhi quindi mi dava fastidio io ho terminati applicandoli sulle mie rughette della fronte erano più lontani dagli occhi quindi in questo caso nessun problema temo siano le fragranze perché ho degli occhi molto molto sensibili non sono sicuramente dei patch che vi consiglierei ce ne sono altri low cost come quelli nel nuovo barattolo di essence che mi piacciono molto molto di più con cosa vado a sostituirli con i miei patch occhi di zoeva bright eye mask hydro gel under eye treatment non ho contato quanti ce ne siano all'interno ma ce ne sono ancora parecchi eccoli qui questi patch a me piacevano molto belli illuminanti belli rinfrescanti io li tengo in frigo belli imbevuti nel loro siero e quindi quando li applicavo comunque vedevo un risultato sul mio contorno occhi perché sono stata costretta di inserirli nel mio project pen breve storia triste sono entrata in bagno con i pacciocchi in mano aperti sono inciampata in un gatto i pacciocchi hanno fatto un volo fuori dal loro contenitore e si sono splattati sul pavimento li ho subito raccolti ovviamente ho tolto e buttato i tre pacciocchi che erano entrati effettivamente in contatto con il pavimento però è il caso di terminarli e farli fuori perché obiettivamente dopo questo incidente non vorrei lasciarli lì troppo a lungo e quindi è il caso di terminarli non farò sicuramente fatica perché sono un prodotto che mi piace ma inserirli nel project pen mi aiuta a non perderli d'occhio tante volte la domenica mi prendo proprio un momento per me due sul contorno occhi uno o due sulle rughe della fronte un momento rinfrescante poi questi pacciocchi possiamo applicarli 5 10 minuti e quindi ci rubano molto poco tempo andiamo avanti con gli altri due mono terminati che erano una maschera labbra che giaceva abbandonata da secoli e secoli era in una beauty box di look fantastic perché avevo questa sensazione che a me non piacesse fare le maschere labbra che confermo era questa maschera labbra in idrogel forse ho fatto anche una foto ve la metto qui bisogna rimanere così con le labbra chiuse con al di sopra questa maschera tanto più per me che non ho problemi di secchezza sulle labbra non è assolutamente un prodotto che riacquisterei però l'avevo e quindi sono contenta di averla finalmente utilizzata così come sono contenta di aver utilizzato olivia questa maschera in alginato di puro bio l'avete vista in azione nelle mie stories su instagram va mescolata con un po' d'acqua ed applicata sul viso si secca e poi la rimuoviamo proprio come fosse una maschera di terracotta pezzetti si stacca dal viso mi piace applicarla vedo la mia pelle più bella lì sotto ma era lì da tanto puro bio è un brand naturale quindi anche qui non era il caso di dimenticarsela un po' brigosa da preparare perché c'è tutto questo procedimento di mezzo e come sempre per le maschere puro bio ce n'è troppa per un'applicazione sola la mettevo su tutto il viso e mi avanzava prodotto troppo poca per farla in due passaggi magari preferirei delle dosi più piccole e un costo un pochino più basso oppure una dose leggermente più ampia in modo da riuscire a utilizzarla in due volte nulla di importante comunque mi è piaciuta sono contenta però di averla terminata scrub corpo hydra vegetale di Yves Rocher scrub viso che io utilizzo sul corpo perché mi sono resa conto che in passato utilizzavo gli scrub viso meccanici che ora non utilizzo più quando ho unito i due reparti skin care trentino e svizzero mi sono ritrovata con un sacco di scrub per il viso che non utilizzo più e quindi mano a mano li sto sfruttando tutti nella doccia sul corpo non c'è problema di solito quelli per il viso sono leggermente più delicati ma fanno il loro dovere anche sul corpo eccoli qui io li utilizzo sui piedi dove ultimamente ho delle zone di secchezza sulle gambe mi fa piacere applicarli durante la doccia vado a sostituirli con due mini size essendo piccolini ne ho inseriti due al contempo uno è lo stesso prodotto in mini size che mi aveva regalato Yves Rocher sempre della linea hydra vegetale l'altro è di Yves Rocher ma è quello al albicocca affin toncren quindi affina la grana della tua pelle che effettivamente è molto molto intenso ed è per questo che non l'avevo utilizzato sul viso io poi come vi dicevo gli scrub meccanici non li utilizzo più ho la pelle sensibile soggetta arrossamenti preferisco piuttosto un peeling chimico enzimatico e quindi sarà perfetto per i miei piedi prossimo prodotto una crema viso di Laneige ovvero la waterbank blue hyaluronic cream moisturizer una crema viso sulla quale ho poco da dire perché è una buona crema viso andava effettivamente ad idratare la mia pelle ma troppo troppo profumata mi dava davvero fastidio applicarla e quindi l'ho fatta fuori come crema corpo con cosa vado a sostituirla vado a sostituirla con un olio il rose hip seed oil di the ordinary un olio per il viso che non applicavo molto volentieri perché gli oli per il viso li applico eventualmente come ultimo step della mia skincare routine la sera ma quest'olio soprattutto applicato in questo modo faceva fatica ad assorbirsi quindi poi andavo a dormire unta sporcando il cuscino e quindi me lo sono dimenticata ma in realtà è un olio che effettivamente performa bene semplicemente ci mette un pochino di tempo ad assorbirsi finché non l'ho trovato in queste condizioni come vedete la pipetta con il caldo di quest'estate si è assolutamente prosciugata su se stessa e non è più utilizzabile non l'andrò ad utilizzare sul viso ma adesso che sta arrivando un po' il freddo posso tranquillamente utilizzarlo come olio corpo posso prendermi il tempo di massaggiarlo di più dopo la doccia e quindi è il prodotto che voglio far fuori così perché sarebbe un peccato buttarlo essendo aperto da tanto non mi fiderei comunque ad applicarlo sul viso andiamo avanti con la mia crema a piedi una crema a piedi di Yves Rocher la Bottee des Pied era praticamente piena eravamo qui adesso è terminata fino all'ultima goccia si vede perché il pecc è trasparente non è stato nemmeno necessario tagliarla per riuscire a terminarla mi è piaciuta sì e no avevo bisogno di una crema a piedi come vi dicevo dei problemi di secchezza in questo periodo si assorbiva bene profumava di levanda ma non abbastanza nutriente per i miei piedi con cosa vado a sostituirla le creme troppo profumate per il mio viso quelle che davvero mi danno fastidio quelle che davvero mi fanno venire mal di testa io le devo applicare il più possibile lontane dal mio naso ed i piedi sono il luogo perfetto per vi farete una grossa risata questa crema di una marca costosissima che si chiama Avant e che avevo trovato in una beauty box di look fantastico ovvero la rose quartz hyaluronic sweet almond avocado oil una crema che viene definita una maschera ma in realtà è una crema sono quelle creme che possiamo applicare come ultimo step della nostra skin care routine quindi che non ha bisogno di risciacquo sul mio viso era molto corposa molto nutriente facevo quasi fatica a farla assorbire e con questa profumazione che non so se voglia di risentire per me sa sa di chimico sa di plastica di di fiore plasticoso mi dà terribilmente terribilmente fastidio ma essendo così bella nutriente ricca sarà perfetta per i miei piedi il luogo più lontano dal mio naso è un po imbarazzante perché questa crema ha un costo allucinante se riesco a trovarlo ve lo lascio qui sullo schermo ma visto che ormai l'ho aperta almeno riuscirò a farla sfruttare in un luogo dove è utile e farà il suo lavoro prossimo prodotto terminato lo scrub di sephora il gommage lèvre al miele in realtà c'è forse un utilizzo come sempre in questi casi vi lascio l'aggiornamento sullo schermo forse riuscirò ad utilizzarlo ancora una volta ma è praticamente terminato e quindi voglio già andare a sostituirlo con un altro prodotto quale? Kiko collezione fruit explosion juicy lip oil questo olio riempito di pezzettini di arancia questa collezione è vecchissima lo hanno usato nessun cambiamento nel profumo l'ho applicato esattamente come quando l'ho acquistato però è un prodotto tanto vecchio che a me piaceva tantissimo e come tutti i prodotti che mi piacciono molto e che sono il limited edition li utilizzo per un po' e poi mi impedisco di utilizzarli per non terminarli così poi intelligentemente li dovrò buttare via perché la formula si rovinerà non voglio che succeda con questo lip oil che mi era piaciuto tanto e quindi lo vado ad inserire nel mio project pen prodotto che mi ha dato grandi soddisfazioni terminare lo stay naked di urban decay un fondotinta che per me è sempre stato un mistero un giorno lo applico bellissima resa il giorno dopo lo applico marca le zone di secchezza si sposta non rimane al suo posto non ho mai capito da cosa dipendesse questa variabilità nell'applicazione e non l'ho capito nemmeno terminandolo con il project pen ha continuato a fare la stessa cosa e quindi sono felice di averlo terminato non ce n'è più sappiate che sono andata anche con una spatolina a raschiare tutti i contorni e il fondo quindi effettivamente è vuoto non so se riusciate a vederlo anche da qui non c'è più prodotto se non una striscetta sottile sui bordi che non si riesce più a prelevare completamente terminato non vado a sostituirlo con un nuovo prodotto perché nel mio project pen avevo già due fondotinta ed eccoli qui il primo è inserito perché vecchiotto questo fondotinta idratante di Fenty Beauty che era stato messo in stand by per l'estate perché è troppo chiaro ho ripreso ad utilizzarlo quindi qualche minimo progresso ci dovrebbe essere questo fondotinta l'ho aperto circa due settimane fa per rimetterlo in uso ed è il prodotto nostalgico mi riporta a Zurigo in questo periodo dell'anno forse un pochino più avanti novembre dicembre e mi ricordo proprio quando me lo sono concessa nel periodo natalizio con le luci natalizie in questo centro commerciale zurighese che si chiamava Manor che poi ha chiuso era il mio centro commerciale preferito dove dilapidare le mie finanze e quando l'ho applicato sono proprio tornata lì nella città dove ho vissuto cinque anni in Svizzera in quel periodo dell'anno non so se succeda anche a voi con i prodotti se vi va di condividere qualche prodotto nostalgico e dove vi riporta qui nei commenti per me questo è il Natale a Zurigo e questo me lo fa applicare con piacere ma anche con un tocco di nostalgia quella nostalgia che fa un po' male al cuore ma che ci riporta anche a cose belle che sappiamo che però adesso sono finite perché sono tornata in Italia ma se mi seguite anche su Instagram lo sapete torno molto molto spesso a Zurigo perché mi manca è rimasta proprio una parte del mio cuore con tanti ricordi e tante persone alle quali voglio bene tra le quali i miei bimbi ai quali ho fatto da Nanny è un super fondotinta a me questo fondotinta è sempre piaciuto quando l'ho acquistato nessun problema l'ho sempre utilizzato d'inverno perché comunque è bello idratante troppo idratante per me nei mesi caldi forse rimarrà per sempre un pochino chiaro perché quando vivevo in Svizzera prendevo meno sole quindi ero più chiara anch'io trovo che adesso con l'evoluzione delle formule di fondotinta ci siano dei fondotinta altrettanto idratanti ma che rimangono un po' più sottili sul viso quindi è ancora un prodotto valido che sfrutto con piacere ma per questa ragione non lo riacquisterei altro fondotinta che era già stato inserito nel mio project pen a causa emergenza infatti lo avevo depottato in questo contenitore era un fondotinta della Wicon nel mio ultimo aggiornamento project pen vi avevo raccontato che a prenderlo mi si era proprio rotto il tubicino e mi era rimasto in mano e quindi era assolutamente il caso di terminarlo anche se era un prodotto relativamente recente rispetto ad altri fondotinta nella mia make up collection anche lui devo dire ho cominciato ad utilizzarlo una volta terminato quello Urban Decay e quindi ci dovrebbero essere dei progressi non grandissimi perché chiaramente ho preferito andare per ordine adesso loro due li mescolo perché lui è un pochino più scuro e mi va a bilanciare un pochino quello di Fenty tagliatele la lingua come sempre parlo troppo altro prodotto terminato la matita sopracciglia di NYX eccola qui finita fino all'ultimo pezzettino aggiornamento come sempre sullo schermo vado a sostituirla con una matita di Benefit io amo questa formula sono sia vero forse un po' più rigide meno cremose rispetto ad altre matite ma questo ci permette di ricreare molto bene anche un effetto pelo pelo hanno un'ottima tenuta e io lei ce l'ho nei miei backup nella shade corretta per me che è la 2.5 il problema per me con questa matita era stato che le colorazioni dei gel sopracciglia non corrispondono a quelle delle matite nei gel sopracciglia quelli colorati io ero la colorazione numero 3 quindi senza pensarci ho acquistato la matita numero 3 che invece è troppo calda e troppo aranciata per me forse allo swatch non si vedrà ve lo faccio vedere qui ma io dal vivo me ne accorgo e me ne sono accorta in camera ho fatto un look ho utilizzato questa matita e ho fatto delle foto e si vedeva proprio la parte iniziale delle mie sopracciglia più chiara e più aranciata è comunque una formula valida nel quotidiano nessuno si renderà conto di questa leggera differenza che si vede ancora meno ad occhio nudo che in camera e quindi è il caso di farla fuori in modo poi da poter tirar fuori dal cassetto dei backup la colorazione adatta a me come vedete di matita da far fuori ce n'è ma questa formula mi piace quindi non dovrei avere nessun problema a terminarla terminata finalmente anche la mia matita bronze beam di pixie sappiate che sono stata tentata di riacquistarla queste matite di pixie sono state a lungo le mie preferite terminata fino alla mina ma ho tantissime matite occhi quindi è il caso che mi concentri su quelle che ho già prima di acquistarne altre anche perché ho già una colorazione bronzo di Maybelline mi pare con cosa vado a sostituirla? con una matita che ho trovato doppia una matita di Kiko della collezione Sparkling Holiday da una parte una matita nera che utilizzo sempre con piacere nella rima interna dall'altra una bellissima matita dorata perché la inserisco nel mio project pen? perché questo è un doppione svizzera Zurigo avevo questa matita sia qui che in svizzera tornando a vivere qui mi sono ritrovata con due matite ho preso quella più vecchia e quella più utilizzata e la farò fuori in questo project pen ultimo prodotto terminato un mascara di Dior il Dior Show Iconic Overcurl sulla carta è il mascara perfetto per me che ho le ciglia sempre sparate dritte quindi amo questi scovolini incorvanti questo mascara mi è sempre piaciuto ma non mi ha mai fatto dire wow e quindi sono contenta di averlo terminato finalmente nel mio project pen vado a sostituirlo sempre con un mascara ma questa volta con un mascara sopracciglia parliamo del eyebrow di Mulac a me questo prodotto di Mulac piace ma non ha battuto i miei fissanti preferiti che sono quello di Benefit che però purtroppo non è cruelty free è quello di Nabla che lo è per fortuna e trovo che si noti un pochino sulle sopracciglia perché non è completamente trasparente e quando lo vado ad applicare un pochino dei residui li lascia lo devo ripettinare dopodiché tiene molto bene le sopracciglia stanno al loro posto questo è un prodotto valido che mi è piaciuto ma essendo aperto da un po' e non avendo battuto le mie formule preferite che continuo a ricomprare lo utilizzo molto molto meno e quindi è il caso di terminarlo momento di pausa vado a contare i prodotti finiti con questo aggiornamento ed eccoli tutti qui in questi due mesi ho terminato 11 prodotti non male se poteva fare un pochino di meglio forse sì perché qualcuno mi è rimasto con poco poco prodotto li scopriremo tra pochissimo perché andiamo a parlare dei prodotti che non ho terminato il primo è una crema solare di la Roche Posay l'Antelios 50 Plus che come vi dicevo è una crema che avevo aperto da un anno eravamo al limite del PAO bella mattificante non adatta per me nei periodi freddi e quindi volevo farla fuori non sono stata brava come avrei voluto qui sul canale c'è un video dedicato ai miei SPF preferiti per diversi tipi di pelle lei era sicuramente un SPF per pelli grasse perché ha un ottimo potere mattificante troppo per me nei mesi freddi che ormai sono arrivati e io non ho utilizzato questa crema come avrei dovuto anche perché ne ho scoperta un'altra che mi è piaciuta moltissimo lenitiva per le pelli sensibili che è di Benton e alla fine finivo per utilizzare sempre lei devo trovare un modo per farla fuori essendo mattificante ho pensato di utilizzarla come primer mattificante nella zona centrale della mia fronte dove mi lucido molto molto di più che sul resto del viso quindi la testerò così e magari potrei mescolarla a qualche fondotinta particolarmente idratante o troppo unto magari un po' scuro per vedere di bilanciarlo insomma in qualche modo la farò fuori non più come SPF perché superato il PAO non mi fido non mi fido della sua protezione che va mano a mano a perdersi e quindi devo trovare un modo alternativo per sfruttarla ma voglio terminarla e quindi lo scopriremo nel prossimo update come me la sono cavata e cosa mi sono inventata per farla fuori andiamo avanti con il prodotto che come vi dicevo mi ha lasciato un po' la mano in bocca perché ero lì lì per terminarlo ce ne saranno uno o due utilizzi ovvero l'impossible primer base di Wet n Wild un primer low cost che trovate recensito sul canale che a me è piaciuto tantissimo Wet n Wild ci dice che è il primer che fa un po' tutto e devo dire che sono d'accordo per quel prezzo è un ottimo ottimo prodotto è riempitivo senza contenere siliconi perché contiene la glicerina visivamente un gel trasparente sembra in tutto e per tutto un primer siliconico ma quando andiamo a aprire la formula è molto più sottile e si apre in una formula quasi acquosa molto rinfrescante e quindi idrata senza farmi ungere ma ha anche un aspetto leggermente riempitivo sui pori e sulle rughette un super primer che sicuramente riacquisterei ne ho già due molto simili nella mia makeup collection quello della collezione autunnale di Kiko e quello di Benefit l'ultimo uscito quindi prima preferisco terminare loro ma sicuramente finirò per riacquistarlo perché mi è piaciuto tanto perché quello di Kiko era una limited edition e quello di Benefit costa molto molto di più però essendocene così poco ho già pensato ad un prodotto sostitutivo e rimaniamo sempre negli SPF questo di SVR che non mi ha mai colpita come SPF perché per applicarne la quantità necessaria ad avere la protezione 50 era un po' troppo spesso non riuscivo bene a farlo penetrare sul viso perché è molto molto profumato e voi lo sapete con le mie emicranie non è il massimo e quindi l'ho sempre utilizzato come primer perché ha proprio una texture in mousse e infatti viene definito un SPF blurring come vedete ha proprio questa texture in mousse un po' fuete che in effetti ha un bel effetto riempitivo io l'ho utilizzato sempre d'estate come primer quindi al di sopra di un SPF perché andava comunque ad aggiungere un po' di protezione solare e aveva questo effetto riempitivo adesso come protezione solare è vecchio ma posso terminarlo come primer anche perché non lo riacquisterei soprattutto per la profumazione che è di crema solare una profumazione estiva ma troppo intensa per me quindi lo farò fuori così e anche qualcun'altra tra voi mi ha confessato di utilizzarlo come primer ha un finish mattificante quindi su una pelle grassa potrebbe andare bene vedo che è molto apprezzato da questo tipo di pelle e in più ha questo bel effetto riempitivo quindi anche se si hanno cicatrici o imperfezioni da una mano da questo punto di vista passiamo al prodotto della vergogna quello piccolino che mi sono completamente dimenticata sul fondo della mia cassettina shagura a me impegnata a terminare quello di wet and wild mi sono dimenticata lui che invece ha un primer luminoso di il la masca che essendo in mini size ed essendo molto molto costoso non terminavo perché non volevo terminarlo ma adesso ce l'ho da tanto l'avevo trovato anche lui in una beauty box di look fantastic credo di non averlo utilizzato nemmeno una volta quindi questa volta per il prossimo update mi devo ricordare di utilizzarlo anche perché non è un prodotto difficile ce n'è pochissimo vado a fermare Merlino che sta provando a mangiarsi qualcosa e torno eccolo il gatto il gatto tentatore di brioche non si attentano le brioche capito? si vede che sta meglio perché ha tentato il sacchetto delle brioche che era rimasto lì sulla cucina detto questo devo terminarlo perché è un prodotto semplice e quindi devo sforzarmi di ricordarmi di utilizzarlo anche perché è un prodotto che mi piace e con l'arrivo dell'inverno i primer illuminanti quindi un pochino luminosi vanno sicuramente meglio anche per me che ho delle zone con la pelle mista e che quindi in estate preferisco tenere mattificata piuttosto che luminosa quindi sicuramente con l'arrivo della stagione fredda riuscirò a sfruttarlo di più pensavo di fare meglio anche con il mio correttore lo stay naked ma si è rivelato uno di quei correttori che si rigenera la notte perché io l'ho utilizzato parecchio ma devo dire che ce n'è ancora si vede che siamo verso la fine andrò a rimuovere lo stopper ma pensavo di riuscire a terminarlo non è stato così lui rispetto al fondotinta è un correttore che mi è sempre piaciuto si finish matte ma non ancora troppo disseccante su di me anche lui limited edition quindi per paura di non ritrovarlo avevo smesso di utilizzarlo vecchiotto e quindi conto di farlo fuori per il prossimo update ci ha riprovato con qualcos'altro l'ho messo pensate sopra lo scolapiatti per riuscire a terminare il video senza nessun gatto assaltatore andiamo avanti con un prodotto che invece mi dà grandi soddisfazioni ovvero il wonder stick di NYX una versione vecchia questo è un prodotto che ho riscoperto con il mio project pen lo avevo acquistato l'avevo utilizzato una o due volte non mi aveva detto granché dimenticato per almeno almeno un anno l'ho inserito nel project pen perché ho ricominciato ad utilizzare con piacere i prodotti in crema anche al di sotto poi di una polvere per essere fissati quindi bronzer in crema con al di sopra un bronzer in polvere e ho scoperto che a me questa formula di NYX piace e come vedete ci sono dei bei progressi anche lui conto di finirlo con il prossimo update ci sono dei bei progressi perché è un prodotto davvero semplice ad utilizzare che si sfuma che non fa macchia non è pigmentatissimo però non è nemmeno invisibile si nota sul viso lo vado a fissare poi con una polvere e l'effetto mi piace molto ma voi lo sapete ha un pochino caldo per me anche se ultimamente non mi dispiacciono anche queste colorazioni un po' più calde anche perché non è troppo gialla ma con la punta di anancio e con la punta di rosa quindi in realtà anche sulla colorazione poco da dire però mi ha talmente incuriosita che ho voluto acquistare anche la nuova versione da contouring qui avevamo dall'altra parte uno stick matte illuminante matte che io non utilizzerò nella nuova versione di NYX dall'altra parte c'è uno stick illuminante luminoso devo ancora testarlo vi aggiornerò magari in un prossimo video ma questa formula di NYX devo dire mi è piaciuta tanto ed è stato bello poterla riscoprire e sfruttarla al massimo grazie al mio project pen prossimo prodotto che mi ha dato soddisfazioni la cipra di eri chioba nella versione suico ovvero nella versione bianca certo che se la apro da storta non funziona eccola qui andiamo ad aprirla e come vedete c'è un bel buco un bel pen non la riacquisterei io amo queste ciprie di eri chioba in collaborazione con cosmi fai amo le versioni colorate sul contorno occhi a me queste cipre bianche non fanno impazzire perché preferisco una cipria che abbia una leggera colorazione e contribuisca ad uniformare il mio contorno occhi soprattutto se è una colorazione rosata pescata infatti quando me la concedo adoro utilizzare la mia cipria di zoeva che ha proprio una colorazione di questo tipo nonostante questo la sfrutto con piacere ma non la riacquisterei anche le mie altre cipre di eri chioba quelle colorate hanno un buco riacquisterei loro piuttosto che questa versione bianca infatti dopo questa cipria non è più acquistate di questo tipo preferisco nettamente quelle colorate arriviamo al prodotto della vergogna sul colle ci sono dei progressi ma comincio a disperare e credere che non finirà mai ovvero California di benefit i progressi ci sono questo blush lo sto sfruttando ogni tanto anche sugli occhi i look corallo adesso con l'autunno li sfrutto molto meno che in estate ma ogni tanto lo faccio comunque c'è un bel buco mi fa piacere anche quest'anno non penso riuscirò a terminarlo ce la metterò tutta ma la vedo dura soprattutto se non trascuro tutti i miei blush della mia makeup collection quindi non non lo utilizzo chiaramente tutti i giorni perché di blush ne ho comunque tantissimi da affetta da blushita acuta non posso che farli ruotare ed utilizzare anche altre formule lo sapete se avete visto la mia serie declutter c'è un episodio dedicato ai blush e tutta la serie sul canale in una playlist non vi preoccupate andremo avanti promesso prossimo episodio palette viso cercherò di girarlo il prima possibile e vorrei terminare anche questo blush finalmente il prima possibile penso che per un pochino non inserirò un blush nel mio project pen perché ho davvero bisogno di una pausa ultimo prodotto ufficiale nel mio project pen poi c'è il prodotto bonus la matita labbra di Clio Makeup la All Day Love Lips colorazione so chic anche lei inserita per incidente non fatemi sentire sola in queste sciagure questa è ora una matita non temperabile che io ho avuto l'ottima idea di temperare disintegrandola passa più aria è più scomoda da utilizzare quindi ho preferito terminarla all'interno del mio project pen non so dirvi esattamente quanta ce ne sia non la tiro fuori del tutto per non distruggerla l'ho utilizzata è una colorazione abbastanza autunnale quindi in estate l'ho utilizzata molto molto poco adesso la sfrutto di più sul contorno labbra ma anche su tutte le labbra da sola perché queste matite hanno un'ottima tenuta in questo caso avrò un effetto matt o con al di sopra un gloss come ho fatto oggi in questo caso il gloss è una delle mie formule preferite se non la mia preferita ovvero i gloss di Pat McGrath nella colorazione di Vine Rose si sposano molto molto bene insieme spero ci siano dei progressi perché mi sono sforzata di utilizzarla un pochino di più detto questo siamo arrivati al prodotto bonus ovvero il prodotto che sfrutto 10 volte per capire se voglio tenerlo nella mia makeup collection o meno in questo caso era una cifria cifria la bake set and forget di Andrea Cimatti in collaborazione con Cosmify ce n'è ancora un quintale come potete vedere ma questa cifria l'ho sfruttata davvero tanto ho riempito le 10 caselle quindi l'ho utilizzata 10 volte ed anche di più perché sono stata davvero in dubbio se tenerla nella mia makeup collection o declatterarla cosa non mi piace non mi piace che sia molto molto chiara va comunque un pochino a schiarirmi la seconda colorazione era gialla una banana powder quindi non sarebbe assolutamente adatta a me quindi questa è la mia colorazione ma trovo vado a schiarirmi un po' non mi piace che non sia riempitiva come altre ciprie della mia makeup collection mi piace molto il suo potere mattificante ha un ottimo potere mattificante ed è anche per questo forse che viene suggerita come cipria per il baking sono stata a lungo indecisa ma poi ci sono ciprie che utilizzo con molto più piacere nella mia makeup collection quella di Uda la mia adorata cipria di makeup forever se parliamo chiaramente di cipria in polvere libera e quindi andrò a cercarle un'altra casa e qualcuno che possa sfruttarla ed apprezzarla di più anche perché all'interno ce n'è un quintale ci metterei secoli a terminarla non avrei piacere di inserirla nel mio project pen perché dovrei utilizzarla troppo spesso e come vi dicevo ci sono ciprie che mi piacciono di più quindi anche lei declatterata va ad aggiungersi alle pile di ciprie declatterate nel mio video declatter ciprie vado a sostituire con un bronzer in crema nessuna sorpresa per voi se avete visto il mio video declatter bronzer è il bronzer di Uda Beauty ovvero il Tantour Contour and Bronzer crema questo prodotto quando è uscito era la rivoluzione un prodotto cremoso per il contour non c'era nulla di simile sul mercato poi ne sono arrivati 350 milioni io avevo scelto la colorazione light non so perché avrei potuto scegliere la colorazione fair lo vedete qui all'inizio l'ho utilizzato parecchio si vede che ha un prodotto comunque sfruttato poi con l'uscita di formule un pochino più semplici l'ho abbandonato anche perché questo prodotto è molto molto pigmentato quindi ne basta davvero pochissimo ho forse preso anche una shade un po' scura per me sarebbe un errore mio sono riuscita sempre comunque a utilizzarla senza problemi ma è lì abbandonata da tantissimo quindi voglio riprenderla in mano risfruttarla per capire se sia effettivamente un prodotto che voglio tenere nella mia makeup collection o se ci sono delle formule adesso più performanti e quindi concentrarmi su di loro questo era l'ultimo prodotto di questo aggiornamento project pen e quindi eccola qui cassettina nuova e pronta per ricominciare come vi dico sempre è sempre un po' un'emozione ripartire da zero c'è sempre quel po' di friccicorio della novità anche se in realtà sono prodotti che conosco già ma devo dirvi che quest'anno grazie al mio project pen ne ho riscoperti parecchi tra i quali il bronzer in stick di NYX che come vi dicevo sto adorando e quindi adesso aspetto voi giù nei commenti quali sono i prodotti che avete riscoperto in fondo ai vostri cassetti o grazie al vostro project pen quali sono i prodotti che come per me il fondotinta di Fenty vi fanno emozionare vi portano alla luce dei ricordi che pensavate assopiti quali vi fanno arrabbiare e penare come il blush di Benefit insomma non lasciatemi senza quattro chiacchiere giù nei commenti se questo video vi è piaciuto e volete che continui con la mia serie project pen importantissimo è il vostro supporto quindi un mi piace e se vi va l'iscrizione al canale io vi mando come sempre un gigante grossissimo bacio e vi ricordo che se vi va io vi aspetto sempre qui ciao 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 ciao